L'hai finito? L'hai finito? Ancora? Ma perché gli sembra un estraneo? Chi è? Chi è? Povero l'unnet? Povero l'unnet? Come cosa di valore? Ed è la questa, io li voglio farlo da vendere Chi è? Chi è? Hai niente? Chi è? Tuf, ti stai provato Chi è? è finito? basta basta